Buongiorno Loredana. Buongiorno, siamo pronti per la partenza. Dove andiamo? Torino, Possano. Andrea tu ci sei? Sì, a fine sera sei. Buongiorno, a me non paro sei. Sto è madonate. Partenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Abbiamo un taschio, ora avendo una vocazione agricola, Possano ha anche dell'arte e della cultura, è stato ricordato appunto nel nostro castello, c'è la mostra di Leonardo, ma abbiamo anche delle chiese o comunque dei luoghi, questo è un piccolo omaggio. Io voglio ringraziarvi per la nostra carità, l'esperienza, che ci avete riservato. Grazie. E' veramente un nome di Pitalonia, della cittadina che parla sulla Grecia. Quindi di distanza, altro, comunque culturalmente molto a Siracusa. Quindi, molte grazie, saranno tre giorni ben intensi e vi ringrazio molto per l'accoglienza che ci ha detto. ringrazio molto per l'accoglienza. ringrazio molto per l'accoglienza. Per noi è estremamente importante perché l'acciaio con un po' di vapore si pulisce e finisce tutto lì. ringrazio molto per l'accoglienza. Hai visto che l'accoglienza ha fatto l'accoglienza? Sì, sì. Ringrazio molto дивica l'affeggazione. Semplici leave' a sit lasti. ciao grazie 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 a me non me lo dici guardami ma io dico hai permesso? ciao buongiorno ah quanto cipolle cipolle io Mario cipolle le corpette d'uovo stiamo facendo la caponata di frutta allora nel finale quindi la cosa traduzione non cipolle non cipolle non cipolle non cipolle aspettate vi faccio vedere la differenza con giallo per dubbio provenienza cerato cerato all'esterno da notare la lucidità in questo stiamo con un pezzo di freschezza la nostra salsiccia e gli amici di Castielbuono che stanno radicando questo vanno a tre cassa grazie 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 fossano grazie 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 veramente di cuore. A tutti lascio la parola a Cristina. Devo avvicinarmi perché il filo non ci arriva. Grazie sindaco. Questa manifestazione penso che potrebbe avere come sottotitolo Insieme si può. Allora Slow Food, farei due parole sul cibo, tanto alla fine a noi spetta quel compito. Abbiamo pensato con l'assessore Ballario di non prevedere un aperitivo a carico del comune perché il bilancio è quello, è quello che deve rimanere, il budget è quello, è quello che deve rimanere ma abbiamo pensato a un aperitivo itinerante. Prego, prego. No, no, ragazzi, batti davanti. Del comune di Balazzolo Traders. E' una salsiccia che oggi, no, evidentemente solo per oggi, regalerà. Non è stata, però non è stata. No, vogliamo Loredana. Perché lei dal primo giorno è arrivata e dice che non sono chef, però è sempre cucina, quindi a diretto come gli altri. Grazie, sono persone speciali, eccezionali, bravissime, con cuore enorme. Grazie. Buonasera a tutti, bentrovati e ben ritornati qui in questa sala dove da anni ho fatto diversi generi. Sono contento sempre quando mi dicono vuoi venire? Dai, veniva, facciamo qualcosa insieme e subito dico sì, lascio tutto, poi che finiscono perché non ti hanno pagato, veniamo per la gloria a fare questo. E' sicuro che sarà una chiena particolarmente buona, gustosa e decennete. Passo la parola alla mia. Noi siamo più gladi a stare a tutti i giorni, per cui al proprio ci emozioniamo. Poi peraltro stasera si deve essere una sala che è piena, per noi è un'emozione più maggiore. Cosa dire? E' la prima volta che abbiamo a Fossano, ci tenavamo tanto, e da più di un anno diciamo che prendiamo questa nostra presenza qui. Bravo, con tutto salvalore, due giorni indensi, lagne, fritti. Ok, quindi non si mangia la musicina, si mangia anche le mie volte. stasera cercheremo di farlo esercitare queste che sono alcune delle nostre cose a tavola troverete dall'acqua, se vuol dire fino al sale, siciliano e poi in buon parole per lo aggero anche buonasera a tutti, sicuramente siamo emozionati soprattutto io, allora ci siamo sorpresi della bellissima ospedalità che abbiamo ricevuto qua a Possano, sapevamo che era questa la loro prelocativa, diciamo che ci hanno sorpresi lo stesso ma le giornate migliori sono stati quelli tra le lange grazie grazie ciao 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 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!